Un giorno per la segnaletica e la riduzione della carreggiata, uno per installare il sistema di monitoraggio della struttura e poi gli autovelox e le grondaglie necessarie per drenare l'acqua. In tutto farebbero quattro giorni, questi tempi record in cui Anas vorrebbe realizzare i lavori necessari alla riapertura partiale del viadotto Puleto che da diverse settimane sta tenendo in ostaggio il traffico tra Romagna e Toscana. Sabato la procura di Arezzo ha dato il via libera ma con grosse restrizioni, no ai mezzi pesanti, una sola corsia per senso di marcia e velocità massima a 50 chilometri orari. Da lunedì mattina gli operai sono al lavoro per ripristinare il tutto, tanto che già venerdì il ponte potrebbe riprendere vita, una soluzione che in ogni caso non soddisfa nessuno. Soprattutto ora che sono venuti alla luce i primi dati sui tempi necessari per la riapertura totale del viadotto, si parla di più di un anno e della vecchia strada alternativa, abbandonata da anni, che richiede almeno sette mesi di lavoro per tornare agibile. Insomma una cura quella della riapertura partiale del ponte che rischia di essere solo un placebo per famiglie e imprese che vivono del commercio tra le due regioni. Questo è il motivo per cui i sindaci del territorio continuano senza sosta a scrivere al governo, da una parte a Di Maio per le agevelazioni fiscali, dall'altra al ministro dei trasporti Toninelli che sabato sui social si è affrettato ad esultare per la riapertura del ponte ma che, scrivono i sindaci, non ha più dato sue notizie dall'incontro del 22 gennaio nel quale aveva promesso la convocazione di un tavolo di emergenza. Una corsa contro il tempo quindi quella di Anas per riaprire una parte del ponte, se non per i privati cittadini, almeno per il ministro che qualora decidesse di spostarsi da Roma per fare tappe in Romagna avrebbe bisogno, come tutti, di una strada percorribile.